Una carenza cronica di personale alla Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Questione spinosa che riguarda anche le vicine strutture di Eboli e Roccadaspide. In questi giorni vari sono stati comunicati stampa dei sindacalisti che chiedono interventi urgenti. Sulla questione intervenuto il presidente della quinta commissione sanità Vincenzo Alaia e il capogruppo regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino. Ma sicuramente è stata la nostra missione dall'inizio, dalla passata legislatura ad oggi. Si continua su questa strada, c'è una carenza tavica che ormai la stiamo risolvendo. Non a caso abbiamo fatto questioni anche per quando il presidente De Luca ha fatto una battaglia in conferenza Stato-Regioni non volendo firmare quell'accordo perché obiettivamente c'è una carenza di personale e lo Stato si deve far carico con delle risorse per darci la possibilità di assumere maggiori unità anche per incrementare quella che è la medicina territoriale. Oggi tutte le strutture sanitarie, soprattutto quelle pubbliche, soffrono in modo importante e significativo per la carenza di personale nel nostro territorio. Purtroppo paghiamo un prezzo alto per quanto riguarda il commissariamento di tanti anni che la Regione Campania ha subito, rispetto al quale si è bloccato il turnover, non abbiamo potuto fare nuove assunzioni. Adesso stiamo recuperando, stiamo cercando appunto di recuperare. Abbiamo avuto due anni di Covid che purtroppo inaspettato, di pandemia, che ci ha bloccato e ha rallentato questo percorso di riorganizzazione del personale nel nostro territorio. Quindi adesso dobbiamo recuperare. È chiaro che anche qui bisogna fare delle riflessioni importanti. Oggi sento tanto spesso parlare anche di ospedale di comunità. Io sono in una posizione molto chiara rispetto a questo. Oggi costruire nuove strutture, parlare di ospedale di comunità con la sofferenza di personale che abbiamo nelle strutture sanitarie pubbliche, beh io penso che rischiamo di sprecare un po' di soldi. Allora concentriamoci e diamo priorità. In primo luogo appunto al personale, al reclutamento del personale. cominciamo anche con lo stabilizzare coloro i quali con il Covid hanno dato una dimostrazione di grande anche coraggio ma di impegno vero. E quindi è giusto riconoscere a chi durante il periodo del Covid ci ha messo la faccia e l'impegno lavorando anche 24 ore in alcuni casi. Dobbiamo quindi procedere a quelle stabilizzazioni rispetto a chi ha lavorato per diverso tempo con il Covid in prima linea. Dopodiché dobbiamo effettivamente lavorare sul personale e nello stesso tempo lavorare, come dicevo prima, all'organizzazione dell'assistenza domiciliare che rappresenta una priorità. Poi il discorso legato agli ospedali di comunità, mi avviso, viene un secondo dopo. L'ospicio adesso siamo alla vigilia di importanti investimenti. Il PNRR rappresenta un investimento importante. Io penso che anche le nostre strutture hanno bisogno di investimenti perché oggi è fondamentale anche l'accoglienza, è fondamentale la sicurezza, è fondamentale il tema di avere delle strutture adeguate e delle strutture che sono capaci di poter raccogliere i pazienti in modo adeguato. Io penso che molte volte uno dei problemi della sanità del sud e non riguarda certamente il Campolongo Hospital perché ho visto un'organizzazione particolarmente efficiente e un modello organizzativo veramente molto puntuale però ci sono tante strutture dove c'è proprio quel difetto sull'aspetto organizzativo. Allora dobbiamo lavorare di più per migliorare l'accoglienza, per migliorare l'organizzazione, per cercare di razionalizzare un pochino e dare anche l'idea dell'organizzazione a chi si rivolge alle strutture sanitarie del nostro territorio.